Il Veneto è in zona gialla e intende rimanerci grazie alla manovra a Tenaglia rappresentata dalla campagna vaccinale e dalle buone pratiche quotidiane. Lo ricorda anche Luca Zaia. Prima cosa, che è quella che più mi sta a cuore, massima attenzione, massima attenzione, non abbassare la guardia. Da ieri siamo in zona gialla, di fatto sostanzialmente liberi di muoverci tranquillamente nei territori, evitare assembramenti, usare la mascherina, che mascherina, assembramento e igiene delle mani vale come un lockdown. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo ed è destinata anzi ad aumentare ulteriormente i giri del motore. Andiamo avanti con le vaccinazioni, abbiamo passato un milione e mezzo di vaccini, quindi un terzo dei veneti, lo diciamo con orgoglio, primi in Italia, ha già avuto almeno un'inoculazione. L'obiettivo per l'immediato futuro è importante, nonostante qualche problema logistico e tecnico, durante l'attivazione degli slot dedicati agli over 60, che comunque hanno risposto prontamente alla chiamata. Vi dico anche che i target per i prossimi giorni sono elevati, perché stanno arrivando le consegne e vi dico anche che, lo dico ai cittadini, so che ieri magari qualcuno ha avuto qualche disagio, però l'apertura degli slot di ieri è un'apertura che ha prodotto bene, parlo degli over 60, cioè di chi ha più di 60 anni, di continuare con un po' di pazienza con le prenotazioni.